Tua, l'accordo del 2015 era peggiorativo, due lavoratori vincono il ricorso in Cassazione. Lo hanno ribadito i sindacalisti della UGL. Ricorso al terzo grado di giudizio in Cassazione era stato voluto dall'azienda di trasporto unico abruzzese che alla fine ha sempre avuto torto sull'applicato accordo di secondo livello. CGL, CISL, Will e Faisal lo avevano sottoscritto ma non l'UGL con il serretario regionale Giuseppe Lupo e i primi due casi dice ne seguiranno presumibilmente altri quattro, tutti assistiti nei tre gradi di giudizio dall'avvocato Anna Maria Tanzi del Foro di Teramo. A noi nel 2015 io come segretario non ho ritenuto opportuno di firmare l'accordo di secondo livello perché era peggiorativo sia nella parte economica che nella parte normativa. Dopodiché siamo andati avanti e mentre CGL, CISL, Will e Faisal firmarono l'accordo noi siamo andati a giudice, ci hanno dato ragione in primo grado, secondo grado e adesso la Cassazione ha sancito una volta per tutte che l'accordo firmato CGL, CISL, Will e Faisal è illegittimo, illegittimo nel senso che non si applica ai lavoratori iscritti all'UGL perché è sigla non firmataria. Adesso secondo me questo servirà anche da deterrente a tutti coloro che nel futuro intenderanno speculare sulla pelle dei lavoratori perché di questo si tratta. Cosa significa questa sentenza? Ma questa è una sentenza storica, una sentenza che l'azienda ne deve prendere atto adesso e che è tutto a vantaggio dei lavoratori perché, ripeto, la Suprema Corte ha detto non si può applicare un accordo dove un'organizzazione sindacale non firma e gli aderenti a quell'organizzazione sindacale si applica il vecchio ordinamento che era più vantaggioso.